And so hi guys, I'm Hendrix and today come potete vedere siamo qui su Hotline Miami 2 Iniziamo subito First Act Exposition Miami, Florida 23 e 47 Io skipperò tutti i dialoghi raga Se volete i dialoghi scrivetemi un commento con Voglio i dialoghi First Scene Down Under Io direi Lui Mi ha laggato, non so se avete notato ma mi ha laggato Non so neanche il perché sinceramente Allora questo personaggio non può avere armi Però i pugni appunto sono fatali Devo dire che non è OP ma non è neanche troppo poco OP Cioè è fantastico questo tizio qui No Bim Chack Chack Qui c'è un altro Bravissimo Mamma mia Sono un pro Sono un proissimo Non sono un pro Vieni qua, vieni qua Bim C'è un altro? No Ok C'è un altro qui Porca vacca M'ha visto sigle M'ha visto Anche questo M'ha visto Oh ok Vieni a voi un bocetto Per venire qua Vai via Ok Ci ho fatto Vai via Vieni qua Porca vacca Non l'avevo vista E sono stupido Sì grande Così mi piace Bravissimo Così mi piacciono tutti Tu anche Bravissimo Poverino Lui è stato quello che non ha fatto Ha fatto meno storie Bravo Vieni qua GG GG All played Vieni qua Grande Live a career Ok Allora Spero tantissimo Che mi sentiate E sentiate anche L'audio del gioco Perché ho bastato Un pochettino tutto Sperando che appunto Si Si senta tutto Grade A Mamma mia Non ho mai Avuto un grado A In Hotline Miami 14 dollari e 50 Cioè Ok Ah Ho ordinato tre pizze E paga 14 dollari E 50 Voglio sperare che Non siano margherite Cioè nel senso E cos'è Cioè Bah 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 Bye Sì ciao Sì vabbè Se non prendo le pizze Però Andiamo a spapparire 1941 Miami Florida 25 ottobre 1991 Cos'era 1981 Quello che è Caffè Sì sì ciao E mo Andiamo Alla macchina Homicide Second scene Ok Qui inizia a diventare un po' più difficile la roba Ma non troppo Allora mi sono dimenticato di fare il disclaimer All'inizio Spero che me lo ricordi dopo Comunque se non me lo possi Ricordato Regà Per chi è facilmente impressionabile questo gioco Non va bene L'ho detto a scopio ritardato Però Va bene così Qui c'è qualcuno No Bravissimi Qui c'è questo qui Quindi io faccio così Mi faccio vedere Me l'hai visto tantissimo Ora non mi vedi più Benissimo Andiamo su Tac 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 No devo Cassiopea No vabbè Chi se n'è Allora Vieni qua tu Bravissimo Così mi piace Venite qua voi Bravissimi Ok Fino ad un colpo posso Posso riceverlo Più di un colpo no Cioè più di un colpo ma io Vieni qua Bravissimo Sono troppo bravo Questo gioco Bravo C'è un altro No allora io farò L'accavolata Ok Ora ce ne dovrebbe essere l'ultimo Sì Guardami 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 Bravissimo Level cleared Attenzione Clear Attenzione raga Attenzione Ho fatto due livelli In Non ne ho idea Perché GeForce Experience Non mi dice nulla Troppo your weapon Bla 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 Sì 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 C'è Sì io posso entrare Cioè c'è Ma c'è proprio il fucile dietro Ma chi l'aveva mai visto B meno Potremmo fare di più Di meglio però Di per di Allora Andiamo su Oh guarda Una porta aperta Bla 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 Sì sì Bla 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 Eh raga Io l'ho già L'ho già giocato Sto gioco Ma non In un tempo vicino Cioè l'ho giocato Molto molto tempo fa Per questo Riuscirò a fare Dei livelli Perché ho giocato Anche il primo Però Alcuni altri no Cioè Per niente Proprio altri Quindi tranquilli Mi vedrete Stop Dimentica Perché Rewind 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 Play Ok Ok 20 18 Miami Florida 25 Aprile 1989 Quindi era il 1989 Anche prima Ok andiamo No devo prendere qualcosa No Direi di no O si no Vabbè Sto tizio C'è la casa Con l'ascensore C'è tipo 850 miliardi di euro Ogni Hard news Third scene Allora vediamo un pochettino Quale Questo Aspetta che Alzo il volume delle cuffie Che non sento nulla Ok Raga Questo A livello Veramente tanto Difficile Eh si Vabbè Io mi Mi soffermo A farla Bravo Bravissimo Allora Mi dovrebbero vedere In teoria loro Potrebbero correre Tutti qua Nagnagnagnagnagnagnagn Non posso urlarli Perché è tardi Cioè vabbè Non è tardissimo Sono le 11 Per Ok Non il fucile Magari Eh Ok Porca vacca Vieni qua Vieni qua Bravissimo Bravissimo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bravo Così mi piacete Bravissimo Quanto mi piacete Quando fate così Ah ci sono No Porca vacca Sai che c'erano No Caspita Per prendere Il coltello Per prendere Il coltello E vabbè No Ok Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bravo 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 Bravissimo Ok ora Qui Bella Ok Fantastico Ok Ciao Porca vacca Chi l'aveva visto Mi stavo guardando attorno Ok Ok Bella Bellissima Vieni qua Vieni qua Bravissimo ZAC E CODI ZAC Porca vacca Porca vacca Allora è difficile È veramente difficile Però ci devo riuscire Ok Finché ci siamo Qui spacco il vetro Perché mi va E TAC Vedetemi 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 Tu mi piaci Tu anche Voi un po' No Devo dire che Mi piacete pure voi Alzatevi Bravissime Ok 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 Mi vedi? Dai guardami Bravissimo Tu sì che sei Un bravo pompino ZAC Benissimo Ora devo andare in qua No Perché mi hai visto? Io ti volevo fare la sorpresina Invece no 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 Uuuu Mamma mia Mamma mia Allora lì c'è uno con il coltello Io Devo rifarla Cavolata A prendere il coltello Perché il coltello Regà Il coltello È putento Veramente Veramente tanto Potente Vieni qua ZAC Ok Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo tantissimo Andiamo avanti Ok Uuuu Dai 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 No Regà Come entrata ha fatto Abbastanza schifo Venite qua Bravo 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 Porca vacca Mi sono spaventato GG 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 Ok Che siamo Che siamo Che siamo Allora Un fucile a pompa c'è Non c'è un fucile a pompa Ma seriamente Ok Ok Non ho capito cosa ho fatto Ah ho preso una valigetta Non l'avevo Non l'avevo Vista neanche Fantastica Andiamo In macchina C'è qualcosa qui? No Ok Raga con questo grado CPU Direi che Potremmo finire qui Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo come sempre Di lasciare un mi piace Commentare Condividere Se volete Iscrivetevi al mio canale Trovate tutti i link Che vi servono Tutti i miei social I miei siti Twitter Perché Twitter Non è un social Twitter È Twitter Ehm Nelle info del mio canale È Dresside Ciao a tutti Ciao a tutti